The Wine Revolution 2019 torna per la terza edizione a Sestri Levante. Due giornate di eventi e incontri per tratteggiare alcune variazioni del mondo del vino avvenute negli ultimi vent'anni. Vignaioli rivoluzionari appunto che hanno in comune il rispetto per la terra, la tutela e la valorizzazione del loro territorio. Artigiani del vino che attraverso processi naturali e un approccio innovativo propongono il loro bagaglio di esperienze e competenze attraverso banchi, assaggio, mostre mercato ma anche street food e stand gastronomici di eccellenza. Un percorso nel mondo del vino artigianale di qualità e filosofia naturale. E noi quando pensiamo al naturale cosa pensiamo? Pensiamo comunque a una situazione che dalla terra naturalmente poi passa al prodotto finale. Questi produttori qua in realtà fanno veramente questo, non vanno praticamente ad aggiungere niente al prodotto e come loro lo lavorano il meno possibile. Un po' il termine potrebbe essere il vino del nonno, noi ci ricordiamo i nostri nonni quando facevano il vino lo facevano veramente casereccio. Il concetto è giusto però ovviamente con delle idee attuali. Diciamo che tutti questi produttori qua che producono sono tutti enologi, sono tutti ragazzi molto giovani che comunque hanno una tecnica. Quindi il vino del nonno sì, però comunque con condizione di causa per intenderci. Come le avete selezionati? Tutti gli anni riceviamo circa 300-400 richieste dall'Italia e ultimamente anche dall'estero e facciamo una selezione prima di tutto. Ripeto, il produttore deve essere comunque di estrazione biologica, biodinamica o naturale. Dopodiché vengono assaggiati. Io sono in giro tutto l'anno per fiere manifestazioni, i vini si assaggiano, si parla con i produttori perché è fondamentale parlare con i produttori e capire come lavorano, perché questi produttori qua ci mettono la faccia. Quindi la certificazione sono loro, se dicessero delle fandonie ci rimetterebbero del proprio. Quindi noi andiamo in giro, poi abbiamo collaboratori, ovviamente in Sicilia magari non ci andiamo però abbiamo un collaboratore, un conoscente, un collega, chiediamo informazioni e chiediamo che comunque ci assaggi il vino. È la stessa cosa per la Francia o la Spagna. Quindi dal Trentino alla Sicilia ma anche con Spagna, l'avete detto, e Corsica. Un evento unico comunque in Liguria? In Liguria siamo gli unici che proponiamo questa tipologia di evento e in Italia diciamo che le manifestazioni di questo tipo qua attualmente all'anno ne esistono circa una decina. La Liguria come si pone con produttori di questa tipologia? La Liguria diciamo che negli ultimi tempi ha fatto passi da gigante, anche noi comunque ci stiamo attrezzando. Attualmente in Liguria ci sono circa 3.900 aziende vitivinicole però di cui sono 1.900 quelle che etichettano, le altre magari conferiscono, producono uva eccetera eccetera. Di queste 1.900 attualmente circa solo una ventina lavorano in maniera naturale, biologica o biodinamica. Stiamo crescendo perché fino a poco tempo fa eravamo veramente molti meno. Io parlo anche solo del territorio questo qua nostro, quindi della Docketiguglia e Portofino dove i produttori sono circa 15, attualmente 1 o 2 si stanno muovendo in questo passo. Quindi esiste una manifestazione nella manifestazione che è quella appunto dei produttori Liguri che ogni anno comunque stanno aumentando, ci chiedono l'adesione e ovviamente per noi il produttore Liguri che comunque c'è dell'adesione ha privilegio perché comunque il territorio è importante per noi ed è importante comunque che la terra venga coltivata in una certa maniera. The Wine Revolution raccoglie 60 produttori quest'anno di filosofia naturale, produttori attenti all'ambiente, attenti a ciò che utilizzano per produrre il vino e alla sostenibilità ambientale. Quindi è un'edizione ricca di appuntamenti anche di approfondimenti sia la domenica che lunedì e diciamo gli orari di apertura sono dalle 11 della domenica fino alle 18.30 e dalle 11 alle 18 per quanto riguarda lunedì. The Wine Revolution è anche food però. Esatto, abbiamo una piccola area che dedichiamo sempre anche al food, anche in questo caso diciamo produttori selezionati, sono circa 6 o 7 realtà al massimo perché lo spazio è piccolo ma poniamo molta attenzione anche a questo aspetto. Quest'anno saranno presenti il pastificio d'asso con il suo cartoccio di ravioli fritti, parla come mangi con una selezione di formaggi e di prodotti di altissima qualità. Avremo la presenza di Ivan Magnago, lo chef e titolare del ristorante in pronta d'acqua con la produzione dei suoi panettoni. Avremo un birrificio, il birrificio Vara è l'unica realtà di birra che teniamo ma che vogliamo promuovere una ragazza che lavora in maniera artigianale anche ella. Le acciughe di Michele Lanciua, molto rinomate e desiderate da tutti i produttori che arrivano poi in Liguria e che quindi ne approfittano anche con questi piccoli produttori di fare anche dei regali di Natale, alla fine si portano avanti per comprare prodotti. La particolare novità di questa edizione vedrà ospiti per la prima volta un gruppo di garagisti in rappresentanza dei quasi 3.000 appassionati di vinicoltura e vinificazione che sull'omonimo gruppo Facebook si scambiano consigli e suggerimenti e che il vino lo producono per opi semplicemente nel proprio garage.